Carissimi soci, bentrovati! Abbiamo festeggiato il Natale, visto arrivare il nuovo anno, qui abbiamo dato il benvenuto, abbiamo visto passare le befane e ora siamo qui. Anno nuovo, pagina Facebook nuova. Questa pagina che chiediamo a tutti di condividere affinché i nostri simpatizzanti, soci, seguaci possano quanto prima conoscerla al meglio e anche loro divulgarla. Avrei voluto darvi a rivederci a Bari l'esposizione prevista, ma ahimè, come tutti avrete saputo, è stata annullata. La salute viene prima di tutto, purtroppo il periodo di pandemia non si è ancora concluso e noi ci adatteremo di volta in volta. Ora stiamo aspettando per vedere cosa si potrà fare con Cagliari. Speriamo si possa tenere questo evento sull'isola e altrimenti ci adatteremo di volta in volta. Vi posso però dire che, pensando che andando verso la bella stagione le cose si risolvano al meglio, stiamo lavorando alla Special Premier. Un evento che si terrà il 18 di giugno all'aperto, con ovviamente una cena e una festa sociale da tenersi subito dopo il raduno. La Special Premier di quest'anno si incunia tra due altri eventi, un Cacib al venerdì e una nazionale alla domenica. Una nazionale che prevede una mostra speciale per tutte le altre. Per cui sarà un evento corposo e che ci auguriamo di poter portare a termine. Proprio da questa pagina vi daremo ulteriormente notizie, dettagli e su come andranno avanti le cose. Per ora vi abbraccio tutti, vi porto il consiglio con me per darvi dei grandi saluti e forse coraggio, andremo avanti benissimo come sempre. Ciao! Grazie a tutti!